La notizia si è diffusa a metà mattina e ha lasciato tutti senza parole. Maurizio Bertani, sindaco di Felino, 56 anni, è deceduto improvvisamente a causa di un malore. Bertani era appena uscito di casa e si stava dirigendo in auto in comune. Pochi istanti è accusato un malessere. È stato soccorso immediatamente, è arrivata un'ambulanza, ma i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. A stroncarlo un infarto che purtroppo non gli ha dato scampo. Maurizio Bertani era stato rieletto sindaco nel maggio dello scorso anno con la lista Insieme per Felino. La sua è stata una lunga militanza politica e amministrativa sempre apprezzata da tutti. Dopo l'impiego in una azienda privata dove si era occupato di cantieri e sicurezza edile, poi l'impegno nel volontariato con anche la presidenza dell'Anspi nel circolo di San Michele Tiorre dal 1996 al 2004. Dal 1985 al 1990 consigliere comunale con il sindaco Baldi, poi assessore ai lavori pubblici dal 2004 al 2014 nell'amministrazione guidata da Barbara Lori, poi divenuta consigliere regionale. Appassionato di moto e sci, lascia la moglie e due figli. Moltissimi messaggi di cordoglio. Il presidente della regione Emilia Romagna, Bonaccini, ha inviato un telegramma alla famiglia di Bertani. La notizia della scomparsa è motivo di dolore non solo per la comunità di Felino, ma anche per l'intera regione. Sono vicino alla famiglia, ha scritto Bonaccini e insieme alla giunta regionale esprimo le più sincere e sentite condoglianze.